Ascoli batte Pescara 2-1 nel primo tempo il legno colpito direttamente da calcio di punizione da parte di Ledyan Memusci. Poi il gol del vantaggio del Pescara, lancio di Delgrosso in profondità per Sottil che viene messo giù da Cavion. Dal dischetto Mancuso supera l'anni 1-0 Pescara sul capovolgimento di fronte. Qualche minuto più tardi il rigore per l'Ascoli, Ciciretti mette dal centro il pallone. Da dietro l'intervento di Gravion sul pallone ma comunque scomposto su Ardemagni. Calcio di rigore concesso da Di Paolo Di Avezzano, impatta Ninkovic 1-1. Il Pescara ha protestato perché era a terra sottile ma Lascoli non ha lanciato fuori il pallone. Nel secondo tempo sembrava un Pescara che volesse concedere di meno a Lascoli. Invece le giocate individuali di Ninkovic, prima Gran Traversa con un destro a giro e di Ardemagni, poi sinistro con la conclusione parata da Fiorillo, fanno pendere con l'ago della bilancia dalla parte dell'Ascoli. Nel finale arriva il rigore per un tocco di mano di Memusci, trasforma Amato Ciciretti. Forzing finale del Pescara, Capone da due passi di testa sfiora il palo. Ascoli batte Pescara 2-1.